per il 9 di Imperatore SLM. Controfavorito di Mondialgar chiaramente il numero 4 di Ninho con i suoi soliti problemi di meccanica. La chiusura delle ali è il trio che ha qualche passo falso ma si rimette a volo ed ora è Nelson Brienne che parte al comando, vuole sfilare davanti gli rientra all'interno Innocenzo Diucchi, intanto è partito forte anche Mondialgar dal largo della prima fila con Innocenzo Diucchi che sfila il comando. 14.7 il primo riferimento cronometrico ma sbotta improvvisamente di Galoppo il numero 1 di Matrix del Rio e Cavalli che ora vanno a completare la dritta di fronte a comandare Mondialgar, Innocenzo Diucchi nel sombriere Ninho. Poi troviamo Naos Rossi in posizione, i 600 in 44.8 abbondanti, 14.8 di frazione con Mondialgar che è sfidato davanti e può imporre ritmo a suo piacimento, completamento della seconda piegata. Passaggio agli 800 da parte di Mondialgar in un buon 59.9 abbondanti con sempre in seconda Innocenzo Nelson Brienne e Ninho, intanto cominciano a muovere anche i cavalli da dietro con sempre a comandare nel frattempo Mondialgar. Il primo chilometro va via in 1.16.6 con 17.1 di frazione, Innocenzo Diucchi che precede Nelson Brienne, Ninho. La via del largo è stata presa da imperatore SLM che si trascina, Michel Trio nel frattempo. La frazione da parte del leader in 16 ancora abbastanza tranquilla, ora sposta e inizia la sua progressione Ninho che va a sollecitare Mondialgar che deve subire l'attacco di Ninho, improvvisa accelerazione da parte del leader con la frazione in 14.4, i due più attesi Mondialgar e Ninho che si staccano dal resto della compagnia con Ninho che tende a passare Mondialgar lungo i birilli in seconda posizione, il Miglio passato in 2.06 da parte del leader con Ninho che è sfilato al comando che però improvvisamente sbotta nuovamente di galoppo. Ninho è finito l'otto di Daos Robb con Mondialgar, ora ritorna prepotentemente Ninho al centro della pista, Ninho dopo l'errore che va su Mondialgar lo va ad attivare nelle banche di Mondialgar, Ninho passa e chiude la partita nei confronti di Mondialgar e Michel Trio nell'ordine con Ninho che dopo l'errore, qualche passo falso a metà della piegata finale, si rimette e va a vincere addirittura andando a concludere su uno spendo Mondialgar, 2.37.8 il tempo totale, 1.15.1 il raguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in... Attenzione perché c'è il suono della sirena per cui... Attenzione, la giuria prima di convalidare l'ordine di arrivo si riserva di visionare il filmato della corsa. E allora fermi tutti perché chiaramente c'è da visionare il filmato perché c'è stato l'errore di Ninho per cui tutto da verificare pure se è terminato prima al traguardo Mondialgar al secondo e Michel Trio al terzo però... Grazie a tutti.